Musica Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Oggi sono qui con voi per farvi, come tutti i mesi, il video dei preferiti del mese scorso, cioè del mese di gennaio E anche questo mese ce l'ha aperto tutti i mesi, ovviamente è in collaborazione con Tania, la dolcissima Tania di cui vi parlo tutti i mesi E spero tutti voi già conosciate, e se ancora non la conoscete, cliccate qui sotto, andate a trovarla Io adoro il suo canale perché lei è una ragazza molto spontanea, pubblica un po' di tutto Non è un canale su cui vedete soltanto una sola tipologia di video, ma come sul mio Trovate i book haul, trovate cosa c'è nella mia borsa, trovate gli haul, c'è un po' di tutto insomma Io prediligo questi canali che spaziano, e quindi se vi piace il mio canale, molto probabilmente vi piacerà anche il suo Io intanto le mando un super abbraccio e un bacio Quanto a me ragazzi, se mi vedete con questa faccia, è perché sono influenzata Perché è furbissima, sono andata in giro con le ballerine, con la pioggia E quindi ragazzi, mi sono presa la mia terza influenza, perché quest'anno ne ho già fatte tre E di solito una temperatura col po' è piuttosto bassa, e quindi anche averne 37,5 come oggi Mi sembra di averne tantissima Oltre a ciò, anche la voce nasale, perché ho il raffreddore e anche un po' di tosse Quindi se vedrete un bel po' di tagli durante questo video, mi spiace ma credo che taglierò tutti gli starnuti Detto ciò, comunque sono di buon umore, perché sono qui a parlarvi dei miei preferiti del mese di gennaio Allora, inizio subito a parlarvi del brano preferito del mese E chi di voi non ama la musica classica, dia almeno una possibilità questa volta a questo compositore E in particolare a questo brano che sto per farvi ascoltare Perché si tratta della sonata per pianoforte appassionata di Beethoven Già un titolo del genere dovrebbe invogliare tutte le persone romantiche a stare a ascoltare anche i prossimi 5 minuti Comunque se proprio non vi piace la musica classica, saltatela Più o meno saranno 5-7 minuti, ho già registrato questa piccola parte di ascolto Vi farò ascoltare qualche minuto di questo bellissimo disco che mi ha tenuto compagnia per tutto il mese Perché l'ho ascoltato e riascoltato un sacco di volte Eccoci qui dove c'è il giradischi, però non solo nella stessa casa dove ho registrato l'altra parte del video Quindi se sentite un audio diverso, se non sentite il sottofondo dei tram È semplicemente perché non sono a Milano E il giradischi, questo qua, è quello portatile, quindi me lo porto un po' in giro E con lui è anche il disco che sto ascoltando in questo momento Infatti come vi ho anticipato, uno dei brani preferiti del mese è la sonata appassionata di Beethoven Quindi una sonata per pianoforte E io vi vorrei far ascoltare il primo movimento, anzi soltanto pochi minuti dell'inizio del primo movimento Nell'interpretazione di Willem Bacchow, che ormai chi mi segue lo sa è uno dei miei pianisti preferiti E questo è un disco bello vecchiotto che ho ereditato Non si sente benissimo, però io queste sonate interpretate sempre da Bacchow ce le ho anche nella versione in cd Non ve lo faccio ascoltare dal cd per questioni di copyright I dischi in venire con il loro gracchiare danno anche di unico all'audio Che fa sì che il computer non lo riconosca e quindi non me lo censuri Comunque qui sotto io vi lascio il link per poter ascoltare interamente questa sonata Ascoltarne pochi minuti secondo me non ha molto senso Magari una volta proverò a farvi ascoltare un brano completo, però non vorrei tediarvi troppo Il brano preferito del mese è la sonata appassionata di Beethoven Ovvero la sonata numero 23 in fa minore Questa sonata è stata composta tra il 1804 e il 1805 ed è stata pubblicata nel 1807 Il titolo appassionata non è di Beethoven ma è un titolo che risale a un'edizione che uscì dopo che Beethoven era già morto nel 1837 In una trascrizione di questa sonata per pianoforte però a quattro mani E da lì il titolo che era perfettamente calciante con il carattere insomma della musica rimase Passa quindi alla storia Tra le sonate di Beethoven questa è una delle mie preferite ma non è la mia preferita La mia preferita resta l'ultima, la 111 che prima o poi vi farò ascoltare Però è talmente bella che quasi ho paura a condividerla, non lo so ragazzi È una cosa strana qui su YouTube perché mi piace condividere le cose che amo Ma allo stesso tempo non so se sarei in grado di esprimere quello che mi trasmette Perché mi trasmette talmente tante emozioni diverse quella sonata che forse non è il caso neanche di parlarvene Non so se questo discorso ha un senso Comunque sono riuscita già a divagare in pochi minuti Le circostanze della composizione non sono quelle che potremmo immaginare della passione amorosa O meglio, non è attestato il fatto che questa sonata fosse stata scritta per una persona in particolare Anche se magari chi di voi insomma conosce un po' la biografia di Beethoven Sa che legata alla sua biografia c'è il famoso dilemma dell'amata immortale Anzi, magari ne parleremo in un video a parte Perché le lettere all'amata immortale di Beethoven Che alla fine sono solo tre lettere però sono veramente bellissime E vale la pena leggerle Questa sonata secondo me rappresenta anche il superamento del sentimento amoroso Preso possibile attraverso lo splendore della forma Il primo movimento che è un allegro assai inizia subito all'unisono Si sentono degli accordi sia nella mano destra sia nella mano sinistra E suscitano subito una certa atmosfera quasi di pericolo A distanza fra le due ottave fa risultare la voce del basso un po' inquietante e oscura Poi il tema si ripete in una tonalità diversa Cioè in una tonalità appena sopra Ovvero il sol bemolle maggiore E quando modula in questa tonalità Tutto acquista un'aura ancora più misteriosa La cosa più bella è che è una trovata che Beethoven non utilizza soltanto in quest'opera Ma anche in altre È il motivo del bussare Che compare proprio all'inizio Alla battuta mi sembra 10 o 11 Adesso non ho qui lo spartito davanti Però proprio nelle prime battute Queste note annunciano qualcosa di fatale Un'altra particolarità è il tempo Il tempo in 12 ottavi Praticamente è considerato un intero diviso in 8 In cui dovete far stare 12 note Questo significa che all'inizio Sullo spartito ci sono 4 gruppi di terzine In realtà quello che si percepisce è una sorta di battito Tu dice quindi già a livello proprio di tempo una tensione Quindi abbiamo un metro fortemente puntato Rende benissimo l'idea del pulsare del battito Del battito del cuore È una trovata geniale Non è facile da eseguire questa sonata Io non l'ho ancora studiata a pianoforte Ne sto studiando un'altra in questo momento Ne ho studiate altre di Beethoven Però questa mi manca È particolarmente difficile secondo me Anche a livello interpretativo Il tempo 12 ottavi può dare delle difficoltà In tre movimenti Ma in realtà è come se fosse in due Perché il secondo è quasi di passaggio È quasi da inglobare nel terzo movimento Quindi ci sono due grandi blocchi distinti Il finale è semplicemente meraviglioso Anzi vi invito a ascoltarle interamente questa sonata Vi lascio qui sotto il link Con sempre l'interpretazione di Backhouse Quindi vi lascio sia il link Per poterlo vedere o meglio ascoltare su YouTube Perché non credo che ci sia il video Anzi sicuramente sarà solo un audio E poi vi lascio un link A un cofanetto che ho anch'io In cui sono racchiuse tutte le sonate di Beethoven Nell'interpretazione magnifica Di questo pianista straordinario Questo è uno di quei brani musicali Che ho ascoltato e riascoltato tantissime volte In tantissime interpretazioni diverse Tra gli interpreti tuttora viventi L'interpretazione che ho preferito È quella di Andras Schiff Un pianista formidabile Tra quelli deceduti è quella di Backhouse Ecco qua Un pianista formidabile 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 Sentite qua che bello questo tema? Sentite come è cantabile rispetto a quello precedente. Sentite qua come rappresenta bene lo struggimento. Sentite come è cantabile rispetto a quello precedente. Sentite come è cantabile rispetto a quello precedente. Questo qua che ho comprato su Amazon, non mi ricordo quanto l'ho pagato, comunque vi lascio qui il link perché era molto conveniente. Sono all'interno tutti questi dischi che racchiudono tutte le 32 suonate per pianoforte di Beethoven. Suonate proprio da Willem Backhouse, quindi un cofanetto super super bello. Le versioni in vinile sono state tutte riversate su CD. Le suonate di Beethoven sono tra le cose più belle mai scritte per pianoforte, quindi io vi consiglio vivamente questo cofanetto. Lo potete acquistare o qui sotto dal link che vi lascio io su Amazon, oppure credo che si trovi tranquillamente o su IBS, su Feltrinelli, di solito Amazon è più conveniente. Io lo adoro anche se sono molto affezionata ai miei vinili. Rimanendo in ambito culturale vi parlo subito del libro preferito del mese. Allora anche questo mese ho letto parecchie cose, chi di voi mi segue su Instagram saprà avrà visto le foto. Comunque tra i preferiti del mese per cambiare un po' non volevo mettervi in narrativa ma questa volta saggistica. In particolare questa raccolta di saggi curata da Valerio Neri dal titolo Il corpo e lo sguardo. 13 studi sulla visualità e la bellezza del corpo nella cultura antica. In questo libretto sono raccolti gli atti di un seminario che si era tenuto a Bologna nel 2003. La casa editrice è questa, patrona, editore, comunque anche questo libro è linkato qui sotto nell'info box. In sostanza sono delle riflessioni sulla bellezza nel mondo antico, o meglio sul concetto di bellezza. E la cosa bella è che gli studiosi che hanno partecipato a questo seminario appartengono a diversi ambiti di studio. Ci sono dei filologi, ci sono dei filosofi, anche studiosi di storia dell'arte. Tutti e 13 saggi mi sono piaciuti, alcuni di più, altri di meno. È molto bello quello iniziale di Umberto Curi sul concetto di bellezza, però il mio preferito di tutta questa raccolta è quello di Maurizio Bettini dal titolo Venus Venusta, il corpo femminile fra piacere, filtri amorosi e voglia di perdonare. Questo saggio mi ha colpito tantissimo, tanto non sapevo che fosse Maurizio Bettini, ho visto che insegna all'Università di Siena. Sicuramente leggerò altre sue pubblicazioni. È molto originale l'impostazione del saggio, perché parte da un karma di Catullo, che cita in latino, puoi mettere la traduzione in italiano. Questo karma è stupendo, perché Catullo riesce a descrivere una ragazza brutta senza mai dire niente di spregiativo. È tutto costruito sull'alitoteo, ossia quella figura retorica che per affermare qualcosa nega il suo contrario. Vi faccio solo un esempio, cioè come inizia, l'incipito è bellissimo. E tradotto significa salve fanciulla dal naso non piccolo, dal piede non bello e dagli occhi non neri. Cioè non dice che questa fanciulla ha un naso grosso e i piedi brutti, gli occhi non so, di un colore che non siano neri, perché comunque hai i tempi di Catullo per i canoni di bellezza, cioè gli occhi neri erano quelli considerati più belli. Mi piace come questo studioso, partendo da questo karma di Catullo, costruito su questa serie di litote, che poi va avanti, non sto qui a leggervelo, riesce a enucleare quelli che sono un po' i canoni della bellezza dell'epoca. Secondo me le dà una lettura originale. A me piacciono questi studiosi che sono un po' fuori dalle righe, che hanno quel guizzo di originalità che magari altri più pedanti e noiosi non hanno. Non so se sono io una pervertita a leggere queste cose, però io l'ho trovato veramente bellissimo. E poi lui fa tutta una ricostruzione filologica sul termine Venus e sulla Venustas. Per arrivare poi a affermare che la Venustas non è una qualità estetica, ma è più una qualità d'animo. Lui lo definisce quel sale spirituale che dà il sapore alla vita. Una ragazza con una personalità che ha un qualcosa di più rispetto alle altre, non è soltanto pulcra, quindi bella, ma che ha anche un di più. Non voglio svelarvi troppo e anche se non sapete il latino, io vi invito a leggere questi saggi perché comunque tutte le parole sono tradotte anche in italiano e poi non tutti hanno delle citazioni in latino. Ce ne sono altri molto belli, comunque a me ha colpito questo saggio lì. Questo volumetto costa solo 13 euro, ve lo linko qui sotto. Spero di trovarlo perché io l'avevo preso un po' di tempo fa, però l'ho letto solo ora. Ho un sacco di libri nuovi che devo ancora leggere e questo l'avevo lì da un po', comunque. Spero si trovi ancora. Come fin del mese mi stavo dimenticando, volevo segnalarvi un film che ho visto al cinema che si intitola L'ora più buia, vi metto qua la locandina. È praticamente un film che racconta la storia di Winston Churchill. Film storico ma assolutamente molto avvincente, per nulla noioso. È girato bene, poi l'attore che fa Churchill è bravissimo. Magari andate a vedere il trailer e poi se c'è ancora nelle sale io ve lo consiglio. Adesso parliamo di cose un po' più leggere, un po' più frivoli. Diciamo che la parte, tra virgolette, culturale o pseudo-culturale finisce qua. Chi di voi non è interessato a vedere le altre cose, insomma, può anche chiudere. Come il profumo del mese, vado a mostrarvi il solito profumo di Zara, Joyful Tuberose, però questa volta mi sono ricordata di portarvi di qua anche questo roll-on, che è praticamente lo stesso profumo, però in un altro formato. E io volevo consigliarvelo perché è comodissimo da portare in borsetta. Vedete, ha proprio il roll-on. Voi ve lo mettete quando siete in giro, non si versa, non mi si è ancora rotto. Sono 10 ml di prodotto, è perfetto anche per i viaggi. Ovviamente a livello di convenienza questo è sicuramente migliore. Però il profumo è lo stesso, quindi se lo volete provare io vi consiglio di prendere prima la mini size. Come prodotti di make-up del mese non ne ho da mostrarvi in particolare. Adesso ho messo questo rossetto che però non è uno dei preferiti del mese, ma ve lo volevo mostrare. È il 314 dei Velvet Passion di Kiko, che adesso sono in sconto. Sapete che io compro sempre il 315, ve lo mostro tutti i mesi. È quello che vedete quasi in tutti i video, però oggi volevo cambiare, proprio perché ho le occhiaie che, insomma, non dormo più via della febbre. Via del raffreddore e la febbre, insomma, ha l'influenza. Volevo mettere qualche cosa di un po' più acceso per smorzare il mio pallore e soprattutto le occhiaie. Comunque non credo di esserci riuscita. In ogni caso, il colore è questo. È un bel colore magenta, abbastanza forte, anzi, un po' forte per i miei standard. Però, insomma, oggi sono in casa, quindi lo posso mettere. Magari non lo metterei di giorno, un po' più da sera, però è molto carino. Come prodotti corpo del mese voglio mostrarvi soltanto questi due. Il solito bagno doccia al peperosa, che avete visto anche nell'ultimo haul di Bottega Verde. Questo ve lo consiglio, sapete che mi piace, quindi non sto qui a soffermarmici troppo. O mentre ho ricomprato e non ho ancora aperto, la mia crema preferita per il corpo, che è questa della Lavera. Quindi è una marca bio, sicuramente non c'è paragone con Bottega Verde. È una crema con burro di karité e olio di mandorla bio. Si trova all'esilunga, ha una consistenza proprio burrosa, cioè ci mette un po' a essere assorbita dalla pelle, però poi vi lascia la pelle morbidissima. Adesso vedete, è chiusa, sarà tipo la quarta che ricompro. E l'ho comprata perché questa settimana all'esilunga tutti i prodotti della Lavera erano scontati. Nel frattempo la mia voce sta scendendo e la mia febbre probabilmente sta salendo. Come scarpe preferite del mese sono le solite ballerine. Queste sono le ballerine incriminate, è perché ho messo queste ballerine in una sera di pioggia, cioè voi direte sei pazza. Però quando sono uscita ragazzi non pioveva, cioè io ho messo queste, dopo un'ora avevo i piedi zuppi. Dunque queste sono le solite che vi ho già mostrato altre volte, sono quelle in similvelluto di OBS. Adesso si sono un po' rovinate, credo che se dovessi ritrovarle ne comprerei un altro paio per tenerle di scorta, perché sono veramente super super comode. Come borsa del mese ho utilizzato tantissimo quella nuova, che però non ho qui in questo momento, che l'ho lasciata a casa dei miei. Però oltre alla borsa nuova, che sicuramente vedrete prossimamente in un What's in my bag aggiornato, l'altra borsa che ho usato è questo zainetto di Zara, che risale ormai a più di un anno fa, ed è super super comodo e molto elegante, questo colore carta da zucchero, tendente un po' al colore Tiffany. E poi mi piace tantissimo il dettaglio di questa chiusura, di questa taschina davanti. Quindi questo è stato uno dei preferiti del mese di gennaio. Un altro preferito di questo mese, che non c'entra con i beauty, sono delle cuffie che ho comprato su Amazon, che veramente ragazzi, cioè ve le devo consigliare assolutamente. Della marca Sony e sono rosa, cioè guardate che carine. Normalissime cuffie che però potete piegare, vedete? Alla fine le potete riporre nella borsetta e non occupano neanche tanto spazio. E l'audio è veramente ottimo. Erano in offerta a 10 euro invece che 16, quindi se ci sono ancora vi lascio qui sotto il link per acquistarle, cioè o meglio, questo colore rosa era in offerta 10 euro. Poi c'erano di altri colori e avevano prezzi differenti. Queste però mi servivano perché avevo rotto quelle che avevo preso da Tiger, quelle bianche. Quelle di Tiger le avevo pagate 8 euro, quindi con 2 euro in più uso delle cuffie di marca, sperando che mi durino un po' più di quelle di Tiger. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare è il cibo del mese, che non sempre mi ricordo di parlarvi delle cose che mangio durante il mese, però questa volta volevo segnalarvi una cosa. I pizzoccheri della valtellina, che qui vedete nella confezione aperta perché li ho provati proprio l'altro giorno. Mi piace provare ricette nuove, però i pizzoccheri non li avevo mai provati, cioè li avevo mangiati al ristorante però non li avevo mai cucinati in casa. E' sicuro che sono la fine del mondo. Vi metto qua una foto dei pizzoccheri cucinati perché qua li vedete praticamente da cuocere. Ci vogliono un po' di ingredienti però il risultato ragazzi è garantito. Dovete mettere una patata, 400 grammi di verse, cuocete il tutto per circa mezz'ora 40 minuti, dopodiché aggiungete questi. E una volta che sono cotti anche questi, che ci mettono circa 10 minuti, alla fine ci aggiungete della fontina o comunque del formaggio simile alla fontina, del parmigiano, del burro sopra e se volete anche della salvia. Credo che sia una delle cose più buone che abbia mai assaggiato. Sarà perché io adoro la verza, mi piacciono tutti i piatti a base di verza. Questo è un piatto tipico della Lombardia. Chissà magari la prossima volta che lo cucinerò vi proporrò una videoricetta però non lo so quando mi capiterà ancora di trovare una verza buona. Non è facilissimo trovare delle belle verge. Niente ragazzi, vi ho parlato un po' dei miei preferiti di questo mese, spero di non avervi annoiati troppo. Mi raccomando andate a trovare anche Tania, vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video. Vi mando un bacio, un abbraccio e se volete ci vediamo al prossimo.